7 stagioni rossazzurro, 155 presenze, 3 gol, capitano in decine e decine di gare, una storia che non si può cancellare, quella di Marco Biagianti a Catania, un giocatore che ha caratterizzato quasi tutta l'era dei rossazzurri in Serie A, ad eccezione dell'ultima stagione poi culminata con la retrocessione. Destino crudele ma condiviso anche dal centrocampista toscano, dato che ha vissuto la stessa amarezza col suo Livorno, quasi come un legame indissolubile con le sorti del suo Catania. Ed anche in questa stagione i Biagianti e il Catania si ritrovano, rivali ed avversari per lo stesso obiettivo, non più la salvezza ma la promozione in Serie A. Due squadre di rango attrezzate a livello di organico ma impegnate in un compito non semplicissimo. Arrivato ai piedi dell'Etna nel gennaio 2007 a 22 anni, il mediano fiorentino è cresciuto e si è formato come giocatore con i rossazzurri. Pasquale Marino lo gettò nella mischia della delicatissima sfida salvezza di Bologna contro il Chievo e lui contribuì a vincere quella gara. Ma è con Walter Zenga che il numero 27 esplode e diventa un punto fermo della squadra fino a meritarsi la convocazione di Marcello Lippi in nazionale insieme a Mascara. Titolare inamovibile anche con Mijailovic, a lui si interessano diversi club e le lacrime a fine campionato fanno pensare all'addio. Ma il legame con l'Etna è forte, tanto da fargli rifiutare la proposta del Palermo. Seguiranno due stagioni condizionate da problemi fisici che lo tengono lontano dal campo per diversi mesi. Poi con Maran Biagianti ritrova più continuità, anche se nel frattempo Isco, Lodi e Dalmiron si sono conquistati il posto. Biagianti rimane il capitano ma a fine stagione lascia perché è finito un ciclo e forse è giusto così. Sposerà una ragazza catanese e tornerà spesso perché l'affetto per questa terra non si cancella.